ed eccoci qua ragazzi bentornati sul mio canale qui è sempre uchika gamer che vi parla e siamo tornati su watchdogs 2 siamo sempre in compagnia del nostro caro amico marcus e siamo qui nel hacker spazio pronti per continuare la nostra avventura grafica e dobbiamo parlare con non ciocchi mi sa che non devo parlare con nessuno di loro no allora di sopra con chi devo parlare mi hanno detto di venire qua devi eliminarli deve essere la priorità fa qualcosa si è durata pure troppo ho sentito bastavano le prime dieci volte e allora perchè mi tocca ancora ripeterlo mia si è arrabbiato dushan ma non sarà facile stavolta lo stronzo ti ha fatto diventare un problema federale benvenuto nel clavo amico già è quello che ha sempre voluto no? farti passare per l'uomo nero che terrorizza la silicon valley dushan offre la protezione del ctos e la dorsale satellitare e bam! tutte si mettono in fila si la bluma ha accesso a tutti i dati raccorsi e li dà impasto alla bellwether merda, ormai è più potente dell'NSA scommetto che l'NSA sarà molto interessata a un accordo con lei l'NSA incoraggia anche altre aziende ad aprire le porte alla Bloom devo fare qualcosa, non posso restare qui e no, è proprio quello che vuole dushan e poi finora hai fatto tutto il lavoro pesante dàcene un po' o ti si spacca la schiena va bene, va bene, voi agite sul campo io fornisco la logistica mettiamoci al lavoro oh, usiamo l'oro? eh, di nuovo quello che è falsa tutto a posto? Marco, sei in guai, grazie eh, lascia che lo aiuti non sono io, cattivo, sita lo so, ok? ma qui nessuno usa il suo non è il premio, il tau la silicon valley ragazzi, è tutto a posto? a posto sì, è a posto che vuoi che faccia? aiuta, Marcus d'accordo ah, era un caricamento lui è Andrew Novak, assistente di dushan oh, poveraccia passa la vita a rubare dati per il suo grande amore Mary Capskill la CEO che idiota voglio operare il laptop usare la sua backdoor per entrare nella rete della Bloom e rubare il codice che ci serve ma per farlo dovrò prima scranchirmi le gambe uh perfetto ehi, Marcus metti qualcosa di nuovo però non ho niente con sitara io non ho non ho gadget no, no, no oh, 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 oh piano mi trovo per buttare di sotto devo trovare un modo di salire se voglio danneggiare il router del sitios ma stai già salendo sit olè, eccoti qua volevi essere sopra e ora sei sopra oh oh, cavolo cazzo la Bloom sta facendo di tutto per proteggersi certo che sitara è proprio odiosa come eh come hacker ok ok Oh Olé Novak Andrew Dai che siamo al 70 Wow Ora il codice di accesso French a te Oh 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 Madonna Usiamo French Ce ne dici di trovare il backup della Bloom e di farlo saltare? Potrai rompere tutto quello che vuoi Questo sito succhia troppa corrette amico Ed è vicinissimo alla Bloom Allora vai e uccidi Distruggi i server di backup o avranno la versione precedente dei dati che vogliamo cancellare Perchè me lo fa? Dannato Ok Che cosa sbloccherà questo? Lo sblocco io Tu tieni gli occhi aperti Dai Sì French così Olé Chi ne è di sotto? Ok Ehi Marcus La stanza non ti sembra piccola? Ehi Non sono lì Già Anche a me lo sembra Oh Wow Provate i server di backup E ho trovato lo sgabbuccino della Bloom I server di backup e i generatori dei camp Per fortuna ho portato roba in più Come faccio? Ah ok così Ok obiettivo completato Ottimo Cazzo niente male Ti mando il codice per entrare L'assistente di Lucian non sa che è stato acchierato Non avrai sorprese Quando accederai al computer Dall'arcap della Bloom Trasmetti tutto via cellulare E passa tutti i dati alla base In bocca al lupo amico Porco cane siamo tornati nei panni di Marcus Ma da sotto si entra? Entriamo da sotto Che male c'è? Tutto ok So il codice eh Quindi non sono un estraneo Buonasera Got the game on Got the game on Like we can get the kick Danny Brown Chi? Dai ma baffanculo Oh cazzo Ray Devi riuscire a impedirgli di contattare Do Shan Hai qualche idea Usare i router del campus per cambiare la password Così nessuno potrà usare il wifi eccetto noi Bella lì Sono con te Eccolo Ok Ok Ora pensiamo ai router Come and then Non è Eccolo No 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 Il primo Alciu Bingo, prova il prossimo Ok E il secondo pure Un altro router è andato, è fatta Sono isolati e lui è anche Dushan Va tutto bene Ray? Tranquillo, io sto benone Ora devi scendere Va bene Fammi fare prima Un po' di cacciara E almeno così non mi Cazzo, andate a massacrare quei tannati hacker Minchia Olè Dai però premi Oh Sono fuori che ti aspetto Sei sicuro? Sì Mi gira il cazzo che non sono lì dentro con te Ma sto bene Lo so amico Mi avvicino al computer dell'AirGap Ok Ok Però C'è un problema Appunto Ecco c'è questo Che va là Ci devono essere altre scale Qui da qualche parte Eh Eh Sennò come faccio È collegata a quell'affare Che però per entrare lì devo andare qua Ok Ok No Lì No Andare qua Ecco qua Ora è aperto Di lì Ok Ok Olè Ho passato la porta E io ho il motore caccato Dimmi tu quando Ray Dovresti veramente vedere questo posto Amico non dirmelo Mi si spezza il cuore Ah che era il computer Dello Ehi l'ultima volta che l'ho fatto E' apparso Dushan Non è qui Fidati E che è un vero peccato Già Sto tenendo le dita incrociate Non mi piace che non ci siano guardie qui sotto Sto usando il certificato che Josh gli ha rubato con maestria Voi ragazzi ci siete? Abbiamo accesso al computer dell'AirGap Ora è connesso alla rete Stiamo scaricando tutti Possibili bersaglio vicino alla vostra posizione Abbandona la broom E come? Allarme attivato Inviamo truppe locali Cazzo Non gli sarà piaciuto per niente Stai attento amico Non è ancora finita per me Sì lo so Guai in vista Non è ancora finita Dai Sono nell'ascensore Il motore ruggisce Citara stiamo tornando ma io e Ray abbiamo ancora una cosa da fare Sei di nuovo invisibile Grazie Ora sto uscendo Ray Chiudiamo tutto Ricercatelo Controllo la posizione Dai che ce la fai Ah che era il mondo Eh trofeo guadagnato Hacker al mondo Bella casetta Marcus Devo dirlo Non vedo come venire qui possa aiutarti ma Ah aspetta 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 Non sarete mica venuti a pestarmi vero? Ah nel caso potresti fermarci? Cosa? Tu e l'amico scongelato? Non lo so A occhio sì Cazzo Ci punterei dei soldi L'amico scongelato Lo so che è il fossile Ho studiato a fondo il lavoro di Ray Kenny Ho massaggiato il suo codice L'ho migliorato Ho riscritto Ma mi servivano degli strumenti E tu avevi bastoncini perché stava sfregando le rocce Molto bravo Non fare a fartelo venire duro pensando a me Dusan Questa non è proprio una visita di cortesia E' più una... Com'è che la chiami? Un'inculata con la sabbia e via Ecco sì Quella Va bene Una sveltina non si nega a nessuno ma Che cazzo ci fate qui? No Ehi Magari è importante Lascia che ti racconti una storia La nostra storia Ora lo sanno tutti quello che hai fatto Hai tradito la fiducia dell'agente Manipolato il mercato azionario E poi le bugie La fraode Anche il Bellwether Tutto quanto Che succede? Si rispondi davvero questa volta Forse è la Blu Che ti manda davanti al plotone di esecuzione O forse il tuo avvocato Che ti avvisa che non puoi fuggire O magari è solo il telemarketing Stavolta è meglio se rispondi Diunque sia Hai smesso di inculare l'agente La pula? Ah sono andate ad arrestare Dushan Un brindisi a tutti E abbiamo vinto Peccato che non ci sia Orazio Hanno provato a fermarci Cercavano di isolarvi Si chiama divide e timpera Facili da controllare e ignorati Usavano il sito IOS per spiarvi Per predire le vostre azioni E tenervi sotto controllo Vi hanno mentito Ma abbiamo giurato di rivelare la verità E mostrarvela Vi abbiamo chiesto di unirvi a noi E l'avete fatto Si è elevata una sola voce Non potete mentirci Non avremo paura Non resteremo in silenzio Eh amico Grazie Ok Sì dai Bella buona Oh capa Vediamo com'è il mondo Quando non ha paura di restare unito La cellula attivista Deadset di San Francisco Ha svelato uno dei maggiori tangali Della Silicon Valley Gli hacker hanno dispuso le prove Secondo cui il CTO di Bloom Dujan Nemec Abusava del suo accesso ai dati del CTO E non tiene vantaggi politici Nemec sta qualizzato E dovrà rispondere L'accusa di Prode Mutla Entra le autorità Stanno congelando i suoi conti La portavoce della Bloom Charlotte Gartner Ha affermato che la società è sconvolta E sta indagando sulla questione Collaborando con le autorità Le prove del Deadset Potrebbero costare molti anni di carcere a Nemec Porco cane Ah Questa devi proprio sentirla Deadset Siamo rimasti uniti Di come è giusto Mentre la Silicon Valley Gli attaccavano molto male Pretendendo di crescere E tanto violavano la nostra vita Abbiamo scocato che la Bloom Vaceva affare di nascosto Con i maggiori giganti tecnologici Specializzati nello spiare E manipolare un simbolo Spettacolo La Bloom La Bloom Fa un pratico E spavolato la città di Nascostia Tiene da buttare il video Ecco Tutti quei dati Sarebbero spettacolo Sarebbero spettacolo Sarebbero spettacolo E controlla Sarebbero spettacolo Sarebbero spettacolo Ma abbiamo scocato Sarebbero spettacolo Sarebbero spettacolo Sarebbero spettacolo Sarebbero spettacolo Sarebbero spettacolo Non Sappiamo che la macchina dei soldi non si ferma, ma vi giochiamo in un'altra volta. E meno testo, pianti in più. A ogni relazione, ogni scanto. Quindi, il nostro numero a uno. E li teniamo. Il DeathSec ti ha dato a tutti. Uno. Quanto c'è di esagerato? Ora sono davvero globali. Nuove cellule del DeathSec nascono dappertutto. In Medio Oriente, in Sud America, in Europa. E non solo loro. I gruppi di attivisti spuntano come funghi. Va bene. Allora chiama. Sicuro. Fallo. Molto bene ragazzi. Io direi che anche questa volta abbiamo concluso. Ti invitiamo a tornare a San Francisco per scoprire le missioni che ti sei perso. Per giocare online con gli amici e per continuare a divertirti nella Bay Area. Grazie per aver giocato. Il team di sviluppo di Watch Dogs. Come vi stavo dicendo ragazzi, abbiamo concluso la saga, la serie qui di Watch Dogs 2. Io vi ringrazio per averla seguita con me e per avermi supportato in questa avventura. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao belli!